Il delitto sarebbe maturato nel contesto familiare. Preoccupazione e rabbia. Le forti piogge delle ultime ore hanno messo in ginocchio il crotonese e il cosentino, ai nostri microfoni l'indignazione di cittadini e commercianti alle prese con disagi che si sarebbero potuti evitare. Oliverio contro tutti. In occasione dell'inaugurazione del nuovo polo oncologico di Cosenza, il governatore replica le recenti critiche del consigliere regionale Carlo Guccione sui temi della sanità e poi si scaglia contro il sindaco Mario Chiuto per i ritardi sulla questione del nuovo ospedale. Vigilantes in sciopero. Si dicono pronti a tutto gli operatori della sicurezza notturna e diurna in servizio all'aeroporto di La Mezzia Terme. Sono di nuovo senza stipendio, stavolta minacciano sciopero della fame e dimissioni di massa. Super Callipo. Vivo Valenza incassa il secondo successo di fila e balza in seconda posizione in classifica di Superlega. Dopo Castellana i giallorossi battono anche Siena in una maratona lunga quasi tre ore. Ben trovati con l'informazione di La Cineus 24 e benvenuti all'edizione serale del nostro Tg. In apertura la svolta nelle indagini sull'omicidio di Massimo Ripepi, il 42enne, ucciso a colpi di pistola domenica scorsa a Piscopio, frazione di Vivo Valenza. Sono due le persone indiziate per l'omicidio. Nel pomeriggio i carabinieri del comando provinciale di Vivo Valenza hanno infatti sottoposto di interrogatorio i due presunti responsabili del delitto. Avvenuto tre giorni fa in pieno giorno a Piscopio, la vittima che si trovava in una sala giochi era corsa in strada in via Regina Margherita per sfuggire alla furia omicida. Almeno dieci i bossoli raccolti dagli investigatori sulla scena del delitto, di cui tre hanno raggiunto Massimo Ripepi. Sotto torchio di Lanza e i carabinieri due stretti congiunti della vittima. Si tratta di Giuseppe Carnovale, 48 anni, cognato della vittima che si è costituito nel pomeriggio, e di Michele Ripepi, 18 anni, figlio della vittima, sulla cui posizione, se in attesa delle valutazioni del PM, trova così conferma la prima ipotesi investigativa in base alla quale l'omicidio sarebbe maturato nel contesto familiare. E adesso parliamo del maltempo, particolari disagi nel crotonese, nell'alto Ionio Cosentino, il punto della situazione nei servizi di Giuseppe Laratta e Marco Lefosse. La quiete dopo la tempesta. Su Crotone splende decisamente il sole, ma si fanno i conti del post-maltempo. Una delle zone più colpite del capoluogo è stato il lungomare, che, come ormai consuetudine, si allaga ogni qualvolta piove, e a farne le spese sono i commercianti. Nelle scorse ore di diluvio l'acqua è entrata negli esercizi commerciali allagandoli. Questo accade poiché lo stesso lungomare ha problemi strutturali, che non consentono all'acqua, che proviene dalle zone alte, di defluire sulla spiaggia, ma resta al centro della strada in una zona concava. In tutto questo, pompe e tombini non riescono ad accogliere la pioggia e il tutto rimane concentrato. È una situazione che va avanti dal 2003, anno in cui proprio questa parte della città è stata oggetto di restyling. Dovevano fare dei troppi pieni, tre o quattro, in tutte le parti del lungomare. Quando c'era tutto questo afflusso di acqua, che purtroppo è naturale, almeno migliorava la situazione. Invece in questo caso convoglio tutto qua e poi ci allaghiamo tutti quanti. Ma io non so più a chi mi devo rivolgere, a quelle santo, a quelle santo ci dobbiamo rivolgere. C'è anche una cosa che in queste caduzioni non si può lavorare. Questa situazione non crea solo problemi alle attività, ma si ripercuote anche sugli stati d'animo degli stessi commercianti a ogni temporale. Vai in panico. Papà non ha la gamba, non ha la gamba, non mi chiamano, non ha la gamba, non ha la gamba, non mi chiamano. C'è quindi proprio attacchi d'ansia. Ma tu ti rendi conto? Nel corso della mattinata i commercianti stessi hanno interpellato l'assessore comunale ai lavori pubblici, Leopedace, per chiedere l'UMI in merito a questa faccenda. La proposta io la butto così, ma non si può fare di nuovi lavori la pendenza verso il mare. Entro un paio di giorni si dovrebbe mettere mano in due zone del lungomare per consentire il deflusso d'acqua verso il mare. Giuseppe Laratta per l'AC News24 Quanti miliardi e miliardi sono stati spesi in quella maniera che non ha funzionalità zero? Poi i soldi si devono spendere nelle cose che servono, non fare cose appariscenze che non servono. Il crollo della parete della Galleria Paramassi lungo la provinciale 188, avvenuto a seguito delle violenti piogge che si sono abbattute ieri sulla Sibaritide, provoca sdegno e rabbia tra i cittadini del centro storico di Rossano. Una situazione annunciata sulla quale gli enti competenti non sono stati in grado di intervenire e che oggi rischia di lasciare isolato un intero quartiere dove sorge una scuola, due residenze per anziani e la sede subprovinciale dell'Inps. Noi residenti di Contrada Pigna stamattina per poter portare i ragazzi giù allo scalo siamo partiti un quarto d'ora, venti minuti prima perché per chi è del posto la strada alternativa che passa dietro il vecchio campo sportivo praticamente se incontri un pullman o un camion diventa un problema. Ci è andata bene perché comunque se non si è mai c'era qualche macchina che passava in quel momento sarebbe stato un dramma. La chiusura della strada ovviamente provoca anche preoccupazioni per eventuali interventi di soccorso. I problemi gravi, seri sono sull'assistenza, sul tempo che impiega un mezzo di soccorso a raggiungere la mia struttura, come può essere via Pigna, la località Traforo, perché entrare e passare per tutto il centro storico con le vie giustamente strette che ci sono diventa un problema. Un'ambulanza deve partire dalla stazione, deve fare tutto il centro storico, poi deve arrivare da noi nella zona nostra, deve rifare il centro storico, deve scendere. Non è una perdita di tempo, sono dei minuti che si tolgono ad una vita che secondo me è la cosa più importante. Marco Lefosse per la CNews24 Il cadavere di un cittadino di nazionalità tedesca, ultra sessantenne da circa 30 anni, residente nel Vibonese, è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione in un'abitazione di contrada Priscopio nel territorio comunale di Zambrone. È rinvenuto il cadavere, la zona è stata circoscritta dai carabinieri della stazione di Zungri per capire se si tratta di una morte naturale o meno. A tal fine è stata avvertita la procura di Vivo Valencia che ha deciso di inviare sul posto il medico legale Cattiuscia Bisogni per i rilievi del caso. Andiamo avanti con la cronaca. Beni immobili e mobili per oltre 1 milione e 200 mila euro sono stati sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma. Arrocco De Masi, 64 anni, ritenuto affiliato all'Andrina dei Giardini di gioiosa ionica riconducibile alla cosca Ursino Macri. Il provvedimento scaturisce dalle indagini seguite all'operazione Tipo Grafic, condotta dal gruppo di Locri e conclusa nel 2016 con l'esecuzione di 25 arresti e sequestri di beni. In quel contesto De Masi venne fermato per associazione per delinquere di stampo mafioso. Cambiamo argomento, taglio del nastro questa mattina per il nuovo polo oncologico di Cosenza, dotato di apparecchiature modernissime, consentirà di ottimizzare i livelli di assistenza per gli ammalati. Due acceleratori lineari, uno di ultimissima generazione, due sale bunker, una PET, una tacca e una camera dedicata alla preparazione dei farmaci antiblastici. Non è il 7 dell'ultima stagione di Grey's Anatomy, ma il polo oncologico del presidio ospedaliero del Mariano Santo di Cosenza, dotato di apparecchiature all'avanguardia in grado di abbattere le liste di attesa e di curare i pazienti in meno tempo e con maggiore efficacia. Il taglio del nastro, accompagnato anche dalla benedizione dell'arcivescovo Francesco Nole a San Cito, l'entrata in funzione dei macchinari pronti a rispondere alle esigenze di una vasta platea di ammalati. Aumenterà la qualità di tutti i trattamenti ai nostri pazienti oncologici. Siamo l'unico centro in Calabria a lavorare 12 ore per entrambi le macchine, quindi abbiamo un flusso di circa 100 pazienti al giorno, un paziente ogni quarto d'ora per 12 ore per entrambi le macchine. È un modo anche per limitare il viaggio della speranza. È giusto, è doveroso che la gente del Calabrese abbia il massimo nella propria terra e nella propria città. Pesante l'assenza del commissario ad acta Massimo Scuro, ufficialmente impegnato altrove. Nel frattempo procedono i lavori di ristrutturazione del Mariano Santo, presidio ospitante anche la terapia del dolore e la dermatologia, dove presto tornerà anche la pneumologia. Il nostro presidio Mariano Santo diventerà un polo oncologico di riferimento non solo provinciale, ma regionale, dove si troveranno tutte allocate, tutte le tecnologie e tutte le attività che riguardano il campo oncologico. Salvatore Bruno per la Cineus24 E come avete visto all'inaugurazione era presente anche il presidente della regione, Mario Oliverio. Sollecitato dai giornalisti ha replicato alle recenti critiche del consigliere regionale Carlo Guccione sui temi della sanità. Poi si è scagliato anche contro il sindaco Mario Chiuto per i ritardi di Palazzo dei Bruzzi sulla questione del nuovo ospedale. Sentiamo l'intervista. Io sulla sanità non ho mai mollato. Guccione evidentemente è allucinato dalle sue perversioni. Ogni giorno se ne inventa uno. Un giorno c'è l'allucinazione, un altro giorno c'è la subalternità, un altro giorno si inventano le cose. Non mi pare che sia, come dire, possa essere oggetto di considerazione questo disco rotto. Siamo a oltre un anno e purtroppo ancora la situazione è stagnante. È davvero irresponsabile e grave che si possa far perdere alla città di Cosenza e alla provincia di Cosenza, naturalmente alla Calabria, un investimento importante per realizzare una grande opera che è stata concepita, finanziata. Noi ci siamo battuti per le risorse, le risorse sono ferme, allocate lì e non si può procedere alla progettazione esecutiva solo perché non c'è la decisione del Comune di Cosenza sul sito che è stato indicato dallo studio di fattibilità. È un'anteprima dello scontro elettorale che vi aspetta? Nessuno scontro elettorale mi aspetta perché ancora non so chi sarà il mio avversario. Non mi pare che ci sia un'indicazione ancora da parte degli altri poli, non solo da parte di uno. Salvatore Bruno per la Cineus 24 Pronti allo sciopero della fame o alle dimissioni di masse, vigilantes dell'Istituto Notturna e Diurna di Catanzaro che prestano la loro opera all'aeroporto di La Mezzia Terme sono di nuovo senza stipendio. Adesso si dicono pronti a tutto. Ogni due mesi purtroppo siamo costretti a manifestare. Se non risolviamo niente pensiamo a uno sciopero della fame o addirittura alle dimissioni di masse. Perché noi ci alziamo la mattina e veniamo a lavorare e lasciamo le nostre famiglie che hanno il diritto a poter avere una vita dignitosa. Quindi o risolviamo o arriviamo all'assurdo, a dimetterci tutti. Ancora in protesta, ancora senza stipendi. I vigilantesi assunti dall'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Catanzaro e che prestano servizio nell'aeroporto internazionale di La Mezzia Terme continuano a lavorare in condizioni di irregolarità ed anomalie. Dal canto suo la Sacal si sta prodigando in ogni modo per cercare di snellire la situazione. Vincolando ad esempio il pagamento delle fatture all'Istituto al versamento dei salari. Ma perdurano criticità. A dare manforte ai lavoratori la Wiltux e la CGL Filcams con la segretaria nazionale Gabrielli. Gli appalti nel nostro paese vivono purtroppo troppo spesso appunto di queste difficoltà. E non si tratta solo di una questione di stipendi. Abbiamo trascorso una dura estate lavorando per 60 ore settimanali, senza riposo, talune volte e senza usufruire di un giorno di ferie. Ad oggi chiediamo il versamento di queste due mensilità in modo tale da trovarci allineati almeno con l'ordinario per poter avvenire a lavorare con serenità e tranquillità. Tiziana Bagnato per la CNews24 È un bene architettonico da tutelare. La fontana di Carlo Pacino, simbolo del comune di Girifalco, che però versa nel degrado. I cittadini non ci stanno. Attraverso una raccolta di firme sul sito del FAI chiedono che venga recuperato. Si trova nel cuore del centro storico di Girifalco, accanto alla chiesa di San Rocco, patrono del paese, e la fontana di Carlo Pacino, primo sindaco del centro catanzarese risalente al 1663. Da allora è il simbolo del comune al centro dell'istimo catanzarese, che oggi però è lasciata nell'incuria più totale. Vengono a pulire soltanto quando viene la festa di San Rocco, eccezionalmente qualche festa che c'è qua giù. Se no, rimane com'è. E io la mattina alle 4 mi sveglio, mi svegliavo, l'estate, a pulire la fondana di bottiglie, di erbaccia, di cose varie, tutte le mattine. Lo facevo nessuno, non ha detto mai grazie. È un valore per noi Girifalcessi molto importante, rappresenta effettivamente un simbolo. Speriamo che venga recuperata e che effettivamente ritorni ad essere quello che effettivamente è stato per noi sempre il clou del nostro paese. Un paese che vuole difendere e tutelare la storica fontana barocca in travertino calabrese, della quale si sono interessati anche i parlamentari 5 Stelle, Margherita Corrado e Paolo Parentela, per individuare i fondi necessari per il suo restauro. Io come capogruppo in consiglio comunale dei cittadini liberativi ho appoggiato con immenso piacere l'iniziativa dei cittadini, chiedono una cosa semplicissima alle istituzioni, che questo bene e che un bene dell'umanità venga tutelato, venga salvato affinché le generazioni future ne possano godere. Per questo la fontana di Carlo Pacino è stata inserita tra i luoghi del cuore del FAI attraverso una raccolta di firme sul sito del Fondo Ambiente Italiano sarà possibile sostenere il prezioso monumento. In questo modo, cercando di accumulare il più firme possibile, si potrebbe avere la possibilità di ristaurare il monumento stesso. Tutto deve avvenire entro il 30 di novembre, auspico che ci sia un moto di rivalza da parte dei cittadini di Gifaco e non solo, finché questo movimento, che è unico nel centro-sud, possa essere in qualche modo recuperato. Rossella Galati per la CNews 24 E adesso parliamo di solidarietà. La raccolta fondi avviata dalla Fondazione Rambaldi lo scorso 10 agosto si è concretizzata nella donazione al centro immaginarium di La Mezza Terme di un utile e moderno strumento didattico. Guardate. Fare beneficenza in Calabria è una mission sentita per la famiglia Rambaldi, che rimane legata al territorio del proprio caro, il grande artista di effetti speciali e tre volte premio Oscar, Carlo Rambaldi. Il 10 agosto, in occasione della manifestazione commemorativa in suo onore, E.T. sotto le stelle, era partita una raccolta fondi che ha permesso adesso alla Fondazione, che porta il suo nome, di consegnare una lavagna interattiva multimediale al centro immaginarium di La Mezza Terme. Immaginarium è una realtà molto attiva e inclusiva, che si prefigge di superare ogni barriera, offrendo corsi e laboratori ad un pubblico tanto dente quanto sordo, tanto vedente quanto cieco, tanto italiano quanto straniero. Qualsiasi sia il limite facciamo in modo di superarlo con le persone che si impegnano veramente tanto, i nostri volontari, e con tanto amore e tanta attenzione alle strategie didattiche. Il nuovo strumento didattico ricevuto in dono dalla famiglia Rambaldi, grazie al contributo dell'Università Telematica Pegaso di La Mezza Terme, è un primo segno di solidarietà, un valido aiuto nel duro lavoro quotidiano, il quale ne seguiranno presto altri. Dalla Mezza Terme, per la Cineus 24. Presentato a Palmi un progetto per mettere in rete le maggiori kermesse culturali cittadine, eventi separati ma con un denominatore comune, quello di rendere la cultura fruibile a tutti partendo dalle scuole. È un'idea innovativa e ambiziosa, quella di mettere in rete le maggiori kermesse culturali cittadine, per sviluppare insieme nuove forme di intrattenimento e di diffusione della cultura. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nel Palazzo Municipale di Palmi. Protagonisti di questa nuova esperienza sono le scuole, che diventeranno parte attiva di tutti e tre gli eventi culturali, vale a dire il Festival della Letteratura e del Diritto Città di Palmi del padrono Antonio Salvati, il prestigioso Premio Palmi e lo Street Book. Per quanto riguarda il Festival ci saranno determinati incontri con le scuole, il premio Palmi si sviluppa così, ci sarà un nuovo premio che coinvolge in modo attivo le scuole, ovvero il premio alla recensione in modo particolare, ci sarà anche un coinvolgimento delle scuole elementari, dove in anteprima al premio realizzeranno un vero e proprio fumetto, e Street Book che va a coinvolgere i licei nella realizzazione di messe in scene teatrali, nate dalla variazione sul tema dei temi classici e antichi, attualizzandoli. Un progetto quindi che dal punto di vista politico ha degli obiettivi ben precisi. È una precisa volontà di questa amministrazione fare cultura e quindi produrre cultura, non più delegare ad altri l'organizzazione di eventi, di presentazioni. Francesco Altomonte per la Cineus 24. Prima dell'apertura ufficiale della stagione 2018-2019, il Teatro Auditorium dell'Università della Calabria ospiterà il prossimo 30 ottobre la commedia Le Due Signorine, uno spettacolo scritto da Giovanni Clemente per la regia di Pierpaolo Sepe, interpretato dalle attrici Isa Danieli e Giuliana Desio. Si tratta di un'anteprima nazionale che sarà preceduta da un lungo backstage, ma adesso sentiamo l'intervista del direttore artistico Fabio Vincenzi. È una storia contemporanea, tra le altre cose Gianni Clementi è un autore contemporaneo del Teatro Italiano ed è una produzione che appartiene ad un personaggio storico del Teatro Italiano che è Melina Balsamo. Due grandi attrici. Io parlo di Isa non perché viene prima, ma perché comunque la grande scuola del Teatro Italiano e la grande tradizione è certamente legata a questo nome. È un'altra grande attrice, una grandissima attrice sia anche per il cinema soprattutto, ma anche per il teatro, che Giuliana Desio. La regia di Pierpaolo Sepe è un tentativo di quello che probabilmente dovrà essere poi anche nei prossimi anni questo spazio che in cinque stagioni ha conquistato un'attenzione nazionale dal punto di vista sia della struttura che della programmazione. Molte compagnie, molti teatri si stanno interessando allo spazio dell'Università della Calabria, quindi al Teatro Italiano e la compagnia ci ha proposto questo tipo di allestimento che è un modo anche per fare economia della cultura. Una compagnia importante, primaria, nazionale che sta a 15 giorni a rende con tutto quello che ne puoi conseguire. La data del 30, entro questa data poi proveremo anche a elencare tutte quelle che saranno le ricchissime proposte di una stagione che guarda ad un territorio che non è soltanto quello dell'area urbana. Salvatore Bruno per la Cinews24 Adesso lo sport, la pallavolo in Superlega, la Tonno Callipo Vibo cala il bis di Vittorie, dopo Castellana Grotte piegata anche Siena. E' una Tonno Callipo spettacolare quella che batte Siene e vola in seconda posizione in classifica di Superlega. Una vittoria ottenuta al T-Break al termine di una autentica maratona durata quasi tre ore che ha premiato la grinta, la tenacia, la fame di punti dei giallorossi. Sono cinque adesso quelli inanellati in gradatoria generale, quasi a punteggio pieno. Sulla Taraflex toscano i calabressi lasciano solo le briciole ai padroni di casa che incamerano così il primo punto della loro storia nel massimo campionato italiano di pallavolo. Ma è così amaro e a rendere il boccone indigesto ci pensano i soliti Alshdadi e Skrimov. 43 punti realizzati in due, 25 per il primo, 18 per il secondo anche se a fare la differenza. E coach Valentini dalla panchina legge prima la partita, zecca tutti i cambi, soprattutto nei momenti più difficili. È stata una partita interminabile dove siamo riusciti a stare sul pezzo. Abbiamo alternato dei momenti secondo me di buon gioco, momenti dove non abbiamo giocato così bene. Stiamo costruendo questa squadra un passo alla volta e speriamo di arrivare a giocare ancora meglio di stasera. Siamo tutti ben consapevoli che è un campionato lunghissimo e probabilmente è uno dei campionati più complicati degli ultimi anni. La strada è ancora lunga e lavoriamo perché sappiamo che tutte le partite saranno difficili come stasera. Alessio Buonpasso per la CINUS24 Grazie per l'attenzione, vi ricordiamo che potete trovare e rivedere ogni nostro singolo servizio come la versione integrale del nostro TG sul nostro sito www.lacinus24.it Una buona serata. Visita il sito www.lacinus24.it Oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La CINUS24, edizione giorno alle 14 e 15 ed edizione sera alle 20 e 30. La CINUS24, la Calabria che fa notizia. Grazie a tutti.